Le leggi razziali del 1938 tuonarono come un fulmine a ciel sereno per tutti quegli ebrei che si sentivano prima italiani e poi professanti in una fede religiosa. Giovanni Cecini nel suo articolo su rivista militare ci racconta la storia di un ufficiale travolto dalle leggi razziali. Giorgio Morpurgo nacque a Roma il 31 ottobre del 1892, figlio di un patriota di origine tristina. All'età di 13 anni entrò nel collegio militare di Palazzo Salviati per passare poi nel 13 alla scuola militare di Modena. Nel marzo del 15 fu nominato sottotenente dei bersaglieri per partire poi due mesi dopo per la Tripolitania. Mentre sulle Alpi già infiammava la guerra contro l'Austria e l'Ungheria, Morpurgo fu in forza al primo reggimento bersaglieri nella lotta contro la resistenza araba. In Libia venne promosso tenente nell'aprile del 16 e capitano nel 17. Fu ufficiale mearista e si fece notare per la sua attività al confine tunisino, anche perché aveva imparato la lingua araba. All'inizio dell'ultimo anno della prima guerra mondiale fu rimpatriato per raggiungere il fronte di guerra. Combatte nel quinto reggimento bersaglieri, dove in seguito poi si guadagnò la croce al merito di guerra. Alla fine delle ostilità, raggiunta a Trieste nel giugno del 20, venne trasferito al 47esimo reggimento fanteriale. Lì però, nonostante la destinazione, cominciò a prestare servizio all'ufficio informazioni del comando generale delle truppe della Venezia Giulia. Iniziava così il suo percorso nell'intelligence che caratterizzò tutta la sua vita successiva. All'inizio del 1934 passò a disposizione del Ministero della Guerra e due anni dopo venne promosso tenente colonnello. A quel punto la sua grandissima competenza nell'intelligence lo catapultò nell'esperienza spagnola come componente di coordinamento del Corpo Truppe Volontarie, il CTV. La sua opera lì venne talmente apprezzata che dal marzo del 1937 fino all'aprile del 1938 addirittura gli furono insegnite tre medaglie di bronzo. Questi episodi dimostrarono non solo la sua profonda conoscenza delle dinamiche operative, ma anche un accentuato coraggio e sangue freddo. Tuttavia egli aveva un peccato originale, ritenuto in quel momento dal regime fascista un handicap insormontabile. Infatti, nonostante l'adesione alla religione cristiana, egli era d'origine ebraica. Fu così che il 23 dicembre, all'indomani della promulgazione del decreto legge sull'espulsione dei militari israeliti, egli fu informato del suo congedo e rimpatrio immediato. Incredulo per questa notizia, chiese la possibilità di poter partecipare ad un'ultima azione. Morpurgo colse questa occasione per chiudere senza polemiche, ma solo con un atto eroico, la sua ancora giovane vita. Per il suo alto senso del dovere, la sua indignazione, la sua delusione e il suo dolore non potevano assumere altra forma che quella del rifiuto, drastico ma silenzioso, che non facesse scandalo. Dopo aver passato le consegne del comando di stato maggiore, chiese di partecipare a una missione della divisione Littorio, a San Roca. Al mattino, prima che la sortita avesse inizio, quando ancora l'artiglieria tirava contro le posizioni nemiche, uscì da solo, allo scoperto. Superò i reticolati e si diresse verso le posizioni nemiche, procedendo lento e ignorando le urla dei suoi commilitoni, che volevano fermarlo. Moriva così uno degli ufficiali più brillanti della sua epoca, che rappresentava poi quel gruppo di comandanti che avrebbero costituito la seconda schiera nei confronti dei vecchi generali di cui Mussolini in fondo nemmeno si fidava. Il suo cadavere, crivellato dai colpi, verrà trovato solo dopo la battaglia, aggrappato ai reticolati che aveva cercato di strappare. Un'esplosione lo aveva completamente denudato. Ascondendo la deliberata ricerca della propria morte, il regime mise Morpurgo sugli altari e gli concesse la medaglia d'oro al valore militare, alla memoria e una nuova croce di guerra. Oggi, in ricordo di Giorgio Morpurgo, nel quartiere romano triunfale, medaglia d'oro, è presente una strada a lui dedicata.